Dal 18 ottobre del 2013 il Governo italiano ha avviato una missione militare umanitaria per gestire l'emergenza determinata dagli sbarchi dei clandestini sulle nostre coste, denominata Mare Nostrum. Alla presentazione dell'operazione Mare Nostrum e delle sue finalità, il Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, affermò che la somma del pattugliamento e dell'azione della Polizia Giudiziaria e della Magistratura avrà un effetto deterrente molto significativo per chi pensa impunemente di fare traffico di esseri umani. Sempre a quel tempo il Ministro della Difesa pro Tempo, Remario Mauro, ribadì che ci muoviamo per primi al limite delle nostre possibilità nell'ambito di Eurosour, finalmente varato che consentirà di controllare le frontiere all'interno di Frontex, per dare un esempio chiaro e forte, e venne sottolineato altresì che non ci sarà bisogno di altri fondi, ma basteranno solo i soldi dei Ministeri, stimando tale costo al momento attorno al milione e mezzo di euro al mese, così il Ministro Mario Mauro. Proprio il giorno dopo l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina, il Ministro dell'Interno ha reso invece noto che sarebbero ben 600.000 le persone sulle coste dell'Africa in attesa di imbarcarsi per arrivare via mare in Italia. Se nel 2013 gli sbarchi sono stati 42.925, solo all'inizio di quest'anno gli arrivi hanno già superato quota 20.000 e il Viminale ha fatto sapere che il dato è di oltre 10 volte maggiore a quello registrato nello stesso periodo del 2013, quindi un vero e proprio record. Nel gennaio 2014, senza alcun coinvolgimento degli enti locali interessati, il Ministero dell'Interno ha inviato un'informativa a tutti i prefetti affinché rendano disponibili nei rispettivi territori di competenza altre strutture per l'accoglienza e nei giorni scorsi ha provveduto ad un primo trasferimento di clandestini nelle regioni del nord. Avvicinandosi l'estate con il miglioramento delle condizioni del mare, è prevedibile che le partenze aumentino ulteriormente ed in misura considerevole, soprattutto quelle dalle coste della Libia. Contestualmente agli sbarchi stanno crescendo anche le fughe dai centri di prima accoglienza, anche di minori, di cui si perdono poi le tracce. La circostanza è motivo di allarme per i partner europei del nostro Paese, che potrebbero anche considerare, come accaduto già nel 2011, di interrompere più o meno temporaneamente l'applicazione degli accordi di Schengen, con effetti negativi sulla libertà di movimento in Europa dei cittadini della Repubblica Italiana. I dati sovracitati dimostrano che l'operazione Mare Nostrum, anziché avere un effetto deterrente molto significativo per chi pensa impunemente di fare traffico di esseri umani, come ci annunciava il Ministro Alfano, non ha svolto alcuna funzione dissuasiva, ma ha piuttosto agevolato l'attività degli scafisti, poiché la consapevolezza di giungere più facilmente alle coste italiane, anche grazie alle navi della Marina Militare e delle Forze di Polizia, sta spingendo un numero sempre maggiore di aspiranti clandestini a pagare ingenti somme per tentare la traversata del canale di Sicilia. In assenza di dati ufficiali, a parte quelli concernenti le fasi iniziali dell'operazione, i costi dell'operazione Mare Nostrum sono stati calcolati a non meno di 300 mila euro al giorno dalla stampa specializzata, che li ha desunti dalla somma degli oneri di funzionamento dei mezzi impiegati e, in particolare, navi e aeromobili. Bene, quindi la spesa finale per l'operazione Mare Nostrum dovrebbe attestarsi tra i 10 e i 14 milioni di euro al mese. Stima, fra l'altro, confermata in parte dal Ministero interrogato, che nella risposta in merito ci dice che, in particolare dall'inizio dell'operazione Mare Nostrum ad oggi, sono state mediamente sostenute spese pari a circa 9,3 milioni di euro al mese. Ecco, quindi la nostra stima era assolutamente in linea con quanto ci ha risposto poi ieri il Ministero. I costi dell'operazione Mare Nostrum incidono esclusivamente sull'economia italiana e risultano ben più gravosi degli esborsi stanziati per i normali pattugliamenti che precedevano la via dell'operazione. Secondo la circolare dell'8 gennaio 2014 del Ministero degli Interni, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, recante a flusso di cittadini stranieri richiedente protezione internazionale, individuazione di strutture e di accoglienza, a qualunque clandestino che sbarchi in Italia semplicemente i presenti richiesta di protezione internazionale, anche se fittizia, deve essere garantito vito alloggio per un importo di 30 euro oltre l'IVA, un pocket money di 2,5 euro al giorno e una tessera ricarica telefonica di 15 euro al giorno e delle strutture di accoglienza, nonché assistenza e cure sanitarie. Se i clandestini arrivati in Italia dall'inizio del 2014 presentassero domanda di protezione internazionale per ottenere i benefici sopravenzionati, i costi calcolati solo al giorno sarebbero di 225 mila euro per le ricariche telefoniche, 37 mila e 500 euro in pocket money e 450 mila euro di vitto alloggio, oltre naturalmente agli oneri per le cure sanitarie. Su 11 centri di identificazione ed espulsione, 6 sono stati chiusi nel 2013 per lavoro di ristrutturazione, causati dei danneggiamenti, e ripetiamo, dei danneggiamenti dei clandestini ospitati, tra cui quello di Lampedusa. E perciò risulta che centinaia di clandestini in questi giorni trasferiti nelle regioni del nord vengano alloggiati per questo motivo anche in alberghi a quattro stelle, come ad esempio è capitato a Riz di San Genesio, in provincia di Pavia, dove il pernottamento a notte costa dai 120 ai 140 euro. Secondo quanto riferito dal Ministro degli affari esteri Federica Mogherini, in un'audizione davanti al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, Nel 2013 l'Italia è diventata il secondo Paese Schengen per numero di visti concessi, con 2.125.490 visti rilasciati. Per la prima volta abbiamo superato la Germania, poco più di 2 milioni. Le nostre 172 sedi abilitate hanno rilasciato un visto ogni 15 secondi. In otto anni, dal 2005, il numero è praticamente raddoppiato, così ci diceva il Ministro Federica Mogherini. In Europa gli altri Paesi stanno prestando misure sempre più restrittive per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, addirittura avviando piani per il rimpatrio dei cittadini comunitari disoccupati, come ad esempio avviene in Germania e in Gran Bretagna, soprattutto per evitare il collasso del sistema del welfare, sistema che da noi è già messo a dura prova dalle restrizioni delle varie spending review e che rischia veramente il collasso a causa degli interventi per garantire la permanenza sul nostro territorio degli immigrati, spesso clandestini, ai quali spesso non viene poi riconosciuto lo status virus di rifugiato politico. Vi sono rischi sanitari cui vengono esposti poi i cittadini, le operatori nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum, anche alla luce della gravissima epidemia di Ebola che si sta diffondendo con preoccupazione dalla Guinea in tutta l'Africa e che ha già spinto altri Paesi europei a varare una serie di misure restrittive all'ingresso del proprio territorio. Vanno considerati i gravissimi disagi, problemi di ordine pubblico, i danni anche in termini economici, in particolare per gli abitanti delle zone in prossimità degli sbarchi che, avvicinandosi l'estate, con il miglioramento delle condizioni del mare, aumenteranno ulteriormente ed in misura considerevole. Quindi, alla luce di queste considerazioni, con la nostra mozione chiediamo un impegno al Governo a sospendere immediatamente l'operazione Mare Nostrum e a rafforzare i controlli alle frontiere, in particolare quelle marittime, a completare il piano di accordi bilaterali elaborato al principio della sedicesima legislatura al fine di impedire le partenze dai Paesi costieri dell'Africa, in particolare dalla Libia, e a investire eventualmente forze e parte delle risorse impiegate attualmente nell'accoglienza per collaborare all'attività di contrasto concordata con i Paesi controparte, ad adottare ancora le più opportune misure di sicurezza, incluse la predisposizione di un piano sanitario d'emergenza al fine di tutelare la salute dei cittadini, degli uomini e delle forze dell'ordine, nonché del personale finora impiegato nell'operazione Mare Nostrum, anche alla luce della gravissima epidemia di Ebola che si sta diffondendo con preoccupazione dalla Guinea in tutta l'Africa. Ed ancora a riferire trimestralmente al Parlamento in merito agli esiti delle domande di protezione internazionale presentate alle concessioni dello status di rifugiato, da parte delle diverse Commissioni territoriali alle domande rigettate ai controlli effettuati nei confronti dei soggetti titolari dello status di rifugiato o comunque del diritto di una protezione sussidiaria o umanitaria, in merito all'effettiva sussistenza dei requisiti per continuare a beneficiare delle forme di tutela sopra richiamate, in particolare relativamente ai rientri in patria. Ed infine in merito al numero e alla tipologia dei visti rilasciati. Ed ancora ad adottare misure idonee al fine di ottenere i rimborsi, garanzia o contributi previsti ai sensi del paragrafo 9 dell'articolo 9 dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 17 della nuova direttiva del 2013-33 dell'Unione Europea, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti di protezione internazionale. E infine ad avviare durante il semestre italiano di Presidenza europea tutte le più opportune iniziative al fine di rafforzare il controllo dei confini terrestri italiani ed in particolare marittimi, a promuovere una revisione della Convenzione di Dublino 2 e a attuare il principio del border sharing, così come previsto nella direttiva. Questo perché noi crediamo, e concludo, mi avvio veramente la conclusione, questo crediamo che sia un dovere da parte di un governo che a parole dice di voler controllare il fenomeno migratorio e non agevolare magari un'invasione. Ma di fatto, di fatto, nei fatti, questo governo dimostra invece tutt'altra sensibilità, una sensibilità magari maggiore nei confronti di immigrati che poi risultano non avere neanche i requisiti per richiedere lo status di rifugiato politico e magari invece si dimentica, si dimentica nei provvedimenti che vara, di tutelare le fasce deboli della nostra popolazione. Nella congiuntura attuale che viviamo, noi crediamo che garantire agli immigrati clandestini o meno vitto alloggio per 120-140 euro al giorno, quando alle fasce della nostra popolazione più debole non viene garantito assolutamente nulla, quando magari noi vediamo i nostri anziani far fatica, a faticare veramente ad arrivare alla fine del mese e magari li vediamo e li ritroviamo sui mercati a rovistare in mezzo alla frutta e alla verdura che vengono abbandonati alla fine del mercato per poter mettere insieme il pranzo e la cena. Beh, noi crediamo che un governo serio debba dare risposte prima di tutto a queste persone e poi magari pensare anche ai bisogni e alle necessità di chi non pensa di venire in casa nostra ma pensa di poter buttare giù la porta di casa nostra per accomodarsi tranquillamente tranquillamente da noi e pensa magari di poter sbarcare il lunario senza fare più nulla, perché così risulta essere per la maggior parte degli immigrati che arrivano da noi e per la maggior parte degli immigrati che arrivano da noi e la cui poi domanda di richiesta di rifugiato politico viene giustamente, qualche volta giustamente respinta. Grazie.